Vieni, vieni. Viale Costantino, Stefano. Ti volevo dare un lavoro, ti volevo dare una casa. 7-8, sì, è mio, cazzo. Ti deve... Quanto, 7-8? 28. Tutte e tre, il doppio. Guarda... Io non te lo faccio massimo. Cresci figli e cresci borsa. Ca, ti vuoi saltare quelle tre case lì? Sì, non è. Voglio andare in prigione? 1, 2, 3, 4, 5, 6. La roba è la sua? 3, 2, 3, 2, 3. L'argo colombi è tu. Oh, solo qui. Sta pagando, sta pagando. Stai dando soldi? Sto facendo 20. Sto facendo 20. Tutto e metto. Sto facendo 20. Oh, trasformali in alberghi, Ester. stai inizia a comprare alberghi stai inizia a prendere alberghi inizia a mettere alberghi ma non so se ho soldi non si accanto sempre di rendita va bene va bene vedi? 270 270 cambia tutto qua inizia a mettere roba cosa mettiamo all'ospedale? questi e qua si riesce a trasformare guarda che non puoi comprare compragli questo allora compragli anche il corso Ateneo facciamo quattro case 400 quanto glielo vedi? basta prima da lì e poi costruisci prima dico lo stretto che no non gli conviene in onore del premio limone fai 6 no 8 no fai 6 7 no no il premio limone 8 mannazzo non prendi niente però se vuoi costruire meglio meglio 10 eeeh 28 qua dovevi costruire 23 adesso fai mezzo di resto eeeh 200 200 no costruiamo allora aspetta eh si adesso 4 case per ogni cosa sono 100 400 400 400 400 400 2